Libro di Giobbe, capitolo primo. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva il Dio e fuggiva il male. Gli erano nati sette figlioli e tre figliole, e possedeva settemila pecore, tremila cammelli, cinquecento paia di bovi, cinquecento asine e una servitù molto numerosa. E quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figlioli solevano andare gli uni dagli altri e darsi un convito, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. E quando la serie dei giorni di convito era finita, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si levava di buon mattino e offrivano l'ocausto per ciascun dessi, perché diceva, può darsi che i miei figlioli abbiano peccato ed abbiano rinnegato il Dio in cuor loro. E Giobbe faceva sempre così. Or accade un giorno che i figlioli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. E l'Eterno disse a Satana, Donde vieni? E Satana rispose all'Eterno, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. E l'Eterno disse a Satana, Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non c'è né un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fuga il male? E Satana rispose all'Eterno, E' egli forse per nulla che Giobbe teme il Dio? Non l'hai tu circondato d'un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, e vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana, Ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Ora accade che un giorno, mentre i suoi figliuoli e le sue figliuole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero a dirgli, I buoi stavano arando, e le asine passevano lì appresso. Quando ecco i sabèi sono piombati loro addosso, e li hanno portati via, hanno passato a fil di spade i servitori, e io solo sono potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire, il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore e i servitori e li ha divorati, e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. E quello parlava ancora, quando ne giunse un altro a dire, i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via, hanno passato a fil di spade i servitori, e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire, i tuoi figliuoli e le tue figliuole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore, ed ecco che un gran vento, venuto dall'altra parte del deserto, ha investito i quattro canti della casa che è caduta sui giovani, ed essi sono morti, e solo io sono potuto scampare per venire a dirtelo. Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello e si rase il capo, e si prostrò a terra e adorò, e disse, nudo sono uscito dal seno di mia madre, e nudo tornerò in seno della terra. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di malfatto. Leggiamo nel libro di Giobbe, capitolo secondo. Ora accade un giorno che i figliuoli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno, e Satana, anche egli in mezzo a loro si presentò davanti all'Eterno. E l'Eterno disse a Satana, Donde vieni? E Satana rispose all'Eterno, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. E l'Eterno disse a Satana, Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme Dio e fuga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, benché tu m'abbia incitato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. E Satana rispose all'Eterno, Pelle per pelle, l'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti rinnega in faccia. E l'Eterno disse a Satana, Ebbene, esso è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. E Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe con un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi al sommo del capo. E Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto nella cenere. E sua moglie gli disse, Ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare il tuo Dio, lascialo andare e muori. E Giobbe a lei, Tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremo da accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Or tre amici di Giobbe, Elifaz di Tema, Bildad di Suhac e Zofar di Namma, avendo dito tutti questi mali che gli erano piombati addosso, partirono ciascuno dal suo paese e si misero d'accordo per venire a condolersi con lui e a consolarlo. E levati gli occhi da lontano, essi non lo riconobbero. E alzarono la voce e piansero e si stracciarono i mantelli e si copersero il capo di polvere gittandola verso il cielo. E rimasero seduti per terra presso a lui sette giorni e sette notti. E nessuno di loro gli disse verbo, perché vedevano che il suo dolore era molto grande. Giobbe capitolo terzo Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno della sua nascita, e prese a dire così. Perisca il giorno che io nacqui e la notte che disse è concepito un maschio. Quel giorno si converte in tenebre. Non se ne curi Dio dall'alto, né splenda sovresso il raggio di luce. Se lo riprendano le tenebre e l'ombra di morte, resti sovresso una fitta nuvola, le eclissi lo riempin di paura. Quella notte diventi preda d'un buio cupo, non abbia la gioia di contar tra i giorni dell'anno, non entri nel novero dei mesi. Quella notte sia notte sterile e non vi so da grido di gioia. La maledicano quei che maledicano i giorni e sono esperti nell'evocare il drago. Si oscurino le stelle del suo crepuscolo, aspetti la luce e la luce non venga e non miri le palpebre dell'alba, poiché non chiuse la porta del sedo che mi portava e non ce l'ho l'affanno agli occhi miei. Perché non morì nel seno di mia madre? Perché non spirai appena uscito dalle sue viscere? Perché trovai delle ginocchia per ricevermi e delle mammelle per poppare? Ora mi giascerei tranquillo, dormirei, ed avrei così riposo coi re e coi consiglieri della terra che si edificarono mausolei, coi principi che possedean dell'oro ed empiron argento le loro case. Oh, come l'aborto nascosto non esisterei! sarei come i feti che non videro la luce. Là cessano gli empi di tormentare gli altri, là riposano gli stanchi, là i prigioni anrequi e tutti insieme sin saudir voce da guzzino. Piccoli e grandi sono là del pari, e lo schiavo è libero del suo padrone. Perché? Perché dar luce all'infelice e la vita a chi ha l'anima nell'amarezza, i quali aspettano la morte che non viene e la ricercano più che dei tesori nascosti? Si rallegrerebbero fino a giubilare, esulterebbero se trovassero una tomba? Perché dar vita a un uomo la cui vita è oscura e che Dio ha stretto in un cerchio. Io sospiro anche quando prendo il mio cibo, e i miei gemiti si spandono come l'acqua. Non appena temo un male che esso mi colpisce, e quel che pavento mi piomba addosso. Non trovo posa, né requie, né pace. Il tormento è continuo. Giobbe capitolo quarto Allora Eliphaz di Teman rispose e disse, Se provassimo a dirti una parola, ti darebbe fastidio? Ma chi potrebbe trattenere le parole? Ecco, tu n'hai ammaestrati molti, hai fortificato le mani stanche, Le tue parole hanno rialzato chi stava cadendo, hai raffermato le ginocchia vacillanti, e ora che il male è piomba su te, tu ti lasci abbattere. Ora che è giunto fino a te, sei tutto smarrito. La tua pietà non è forse la tua fiducia? È l'integrità della tua vita la speranza tua? Ricorda quale innocente per i mai, e dove furono gli uomini retti mai distrutti. Io per me ho visto che coloro che arano iniquità e seminano tormenti ne mietano i frutti. Al soffio di Dio essi periscono, dal vento del suo corruccio sono consumati. Spenta è la voce del ruggente, sono spezzati i denti dei leoncelli, perisce per mancanza di preda il forte leone, e restan dispersi i piccini della leonessa. Una parola m'è furtivamente giunta, e il mio orecchio ne ha colto il lieve sussurro. Fra i pensieri delle visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, uno spavento mi prese, un tremore che mi fece tremare tutta l'ossa. Uno spirito mi passò dinnanzi, e i peli mi si rizzarono addosso. Si fermò, ma non riconobbi il suo sembiante. Una figura mi stava davanti agli occhi, e udì una voce sommessa che diceva, «Può il mortale esser giusto dinanzi a Dio? Può l'uomo esser puro dinanzi al suo fattore?» Ecco, il Dio non si fida dei suoi propri servi e trova difetti nei suoi angeli. Quanto più in quelli che stanno in case d'argilla, e che han per fondamento la polvere, e son schiacciati al par delle tignole. Tra la mattina e la sera sono infranti, periscono per sempre senza che alcuno se ne accorga. La corda della loro tenda, ecco, è strappata, e muoiono senza possedere sapienza. Giobbe, capitolo quinto Chiama pure C'è forse chi risponda? E a qual dei santi vorrai tu rivolgerti? No, il cruccio non uccide che l'insensato, e l'irritazione non fa morire che l'ho stolto. Io ho veduto l'insensato prender radice, ma bentosto ha dovuto maledire la dimora. I suoi figli van privi di soccorso, sono oppressi alla porta e non c'è chi li difenda. L'affamato gli divora la raccolta, gliela rapisce perfino di tra le spine, e l'assetato gli trangugia i beni. Che la sventura non spunta sulla terra, né il dolore germina dal suolo, ma l'uomo nasce per soffrire, come la favilla per volare in alto. Io, però, vorrei cercare di Dio, e a Dio vorrei esporre la mia causa, a Lui che fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie senza numero, che espande la pioggia sovra la terra e manda le acque sui campi, che innalza quelli che s'erano abbassati e pone in salvo gli affannati in un luogo elevato, e che sventa i disegni degli astuti, sicché le loro mani non giungono ad eseguirli, che prende gli abili nella loro astuzia, sì che il consiglio degli scaltri va in rovina. Di giorno essi incorrono nelle tenebre, in pie e mezzo di brancolan come di notte, mai Dio salva il meschino dalla spada della loro bocca, e il povero dimanda al potente. E così, per misero, vè speranza, mentre l'iniquità ha la bocca chiusa. Beato l'uomo che Dio castiga! O tu, non isdegnar la correzione dell'Onipotente, già che Egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. In sé distrette Egli sarà il tuo liberatore, e in sette il male non ti toccherà. In tempo di carestia ti scamperà dalla morte, e in tempo di guerra dai colpi della spada. Sarai sottratto al flagello della lingua, e non temerai quando verrà il disastro. In mezzo al disastro e alla fame riderai. Non spaventerai dalle belve della terra, perché avrai per alleate le pietre del suolo e gli animali dei campi saranteco in pace. Saprai sicura la tua tenda, e visitando i tuoi pascoli vedrai che non ti manca nulla. Saprai che la tua progenie moltiplica, che i tuoi rampolli crescono come l'erba dei campi, scenderai maturo nella tomba come la bica di mannelle che si ripone a suo tempo. Ecco quel che abbiamo trovato riflettendo. Così è. Tu ascolta, e fanne tuo pro. Giobbe capitolo sesto Allora Giobbe rispose e disse, Ah, se il mio travaglio si pesasse! Se le mie calamità si mettessero tutte insieme sulla bilancia, sarebbero trovati più pesanti che la sabbia del mare. Ecco perché le mie parole sono temerarie. Che le saette dell'Onipotente mi trafiggono, lo spirito mio ne stugge il veleno, I terrori di Dio si schierano in battaglia contro di me. L'asino selvatico raglia forse quando ha erba davanti? Mughia forse il bue davanti alla pastura? Si può egli mangiare ciò che è scipito e senza sale? C'è qualche gusto in un chiaro d'uovo? L'anima mia rifiuta di toccare una similcosa, essa è per me come un cibo ripugnante. Oh, ma venisse pur quello che chiedo, e mi desse Dio quello che spero. Volesse pure Dio schiacciarmi, stender la mano e tagliare il filo dei miei giorni. Sarebbe questo un conforto per me. Esulterei nei dolori che Egli non mi risparmia, giacché non ho rinnegato le parole del Santo. Che è mai la mia forza per chi io speri ancora? Che fine m'aspetta per chi io sia paziente? La mia forza è esa forza di pietra? E la mia carne è carne di rame? Non sono io ridotto senza energia, e non mi è forse tolto ogni speranza di guarire? Pietà deve l'amico a colui che soccombe, quando anche abbandoni il timor dell'Onipotente. Ma i fratelli miei si sono mostrati infidi come un torrente, come l'acqua di torrenti che passano. Il ghiaccio li rende torbidi, e la neve vi si scioglie. Ma passato il tempo delle piene, svaniscono, quando sentono il caldo scomparisce dal loro luogo. Le carovane che si dirigono là, mutano strada, si inoltrano il deserto e viperiscono. Le carovane di tema, li cercavano con lo sguardo, i viandanti di Sheba ci contavano su, ma furono delusi nella loro fiducia, giunti sul luogo, rimasero confusi. Tali, tali siete divenuti voi per me. Vedete uno che fa orrore, e vi prendete paura. Voi forse detto, datemi qualcosa, o coi vostri beni, fate un donativo a favor mio, o liberatemi dalla stretta del nemico, o scampatemi di man dei prepotenti, ammaestratemi, e mi starò in silenzio, fatemi capire in che cosa ho errato. Quanto sono efficaci le parole rette, ma la vostra riprensione che vale? Volete dunque biasimar delle parole? Ma le parole d'un disperato se le porta il vento. Voi sareste capaci di trar la sorte sull'orfano e di contrattare il vostro amico. Ma pure vi piaccia di rivolvervi a guardarmi, e vedete se io menta in faccia. Mutate consiglio, non vi sia in voi iniquità, mutate consiglio, la mia giustizia sussiste. Ve qualche iniquità sulla mia lingua? Il mio palato non distingue più quel che è male? Giobbe, capitolo settimo La vita dell'uomo sulla terra è una milizia. I giorni suoi sono simili ai giorni di un operaio. Come lo schiava nella lombra e come l'operaio aspetta il suo salario, così a me tocca a mesi di sciagura e mi sono assegnate notti di dolore. Non appena mi corico dico quando mi leverò. Ma la notte si prolunga e mi sazio di agitazioni infino all'alba. La mia carne è coperta di vermi e di croste terrose e la mia pelle si richiude e poi riprende a suppurrare. I miei giorni se vanno più veloci della spada, si consumano senza speranza. Ricordati che la mia vita è un soffio. L'occhio mio non vedrà più il bene. Lo sguardo di chi ora mi vede non mi potrà più scorgere. Gli occhi tuoi mi cercheranno. Ma io non sarò più. La nuvola svanisce e si dilegua, così chi scende nel soggiorno dei morti non ne risalirà. Non tornerà più nella sua casa e il luogo ove stava non lo riconoscerà più. Io, perciò, non terrò chiusa la bocca, nell'angoscia del mio spirito io parlerò, mi lamenterò nell'amarezza dell'anima mia. Sono io forse il mare o un mostro marino che tu porga intorno a me una guardia? Quando dico il mio letto mi darà sollievo, il mio giasciglio alleverà la mia pena, tu mi sgomenti con sogni e mi spaventi con visioni, sicché l'anima mia preferisce soffocare, preferisce a queste cosa la morte. Io mi vo' astruggendo, non vivrò per sempre, dè, lasciami stare, i giorni miei non sono che un soffio. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso e che tu ponga mente ad esso e tu lo visiti ogni mattina e lo metta alla prova ogni istante? Quando cesserai di tenere lo sguardo fisso su me? Quando mi darai tempo di inghiottir la mia saliva? Se ho peccato, che ho fatto a te, o guardiano degli uomini? Perché hai fatto di me il tuo bersaglio a tal punto che sono diventato un peso a me stesso? E perché non perdoni le mie trasgressioni e non cancelli la mia iniquità? Perché presto giacerò nella polvere e tu mi cercherai, ma io non sarò più. Giobbe Capitolo Ottavo Allora Bilda di Suac rispose e disse, Fino a quando terrai tu questi discorsi e saranno le parole della tua bocca come un vento impetuoso. E Dio perverte Egli il giudizio? L'Onnipotente perverte Egli la giustizia? Se i tuoi figlioli hanno peccato contro Lui, Egli li ha dati in balia del loro misfatto. Ma tu, se ricorri a Dio e implori grazia dall'Onnipotente, se proprio sei puro e integro, certo Egli sorgerà in tuo favore e restaurerà la dimora della tua giustizia. Così sarà stato piccolo il tuo principio, ma la tua fine sarà grande oltremondo. Interroga le passate generazioni, rifletti sull'esperienza dei padri, giacché noi siamo dieri e non sappiamo nulla. I nostri giorni sulla terra non son che un'ombra, ma quelli certo ti insegneranno e ti parleranno, e dal loro cuore trarranno discorsi. Può il papiro crescere dove non c'è libo, e il giunco viene egli su senza acqua? Mentre son verdi ancora e senza che li si tagli, prima di tutte le erbe seccano. Tale la sorte di tutti quei che dimenticano il Dio e la speranza dell'empio perirà. La sua baldanza è troncata, la sua fiducia è come una tela di ragno, egli s'appoggia alla sua casa, ma essa non regge, vi si aggrappa, ma quella non sta salda, egli verdeggia al sole e i suoi rami si protendono sul suo giardino, le sue radici si drecciano sul mucchio delle macerie, penetra fra le pietre della casa, ma divelto che sia dal suo luogo, questo lo rinnega e gli dice, non ti ho mai veduto. Ecco il gaudio che procura la sua condotta e dalla polvere altri dopo lui germoglieranno. No, no, il Dio non ricetta l'uomo integro né porge aiuto a quelli che fanno il bene. Egli renderà ancora il sorriso alla tua bocca e su le tue labbra metterà canti di sultanza. Quelli che todiano saranno coperti di vergogna e la tenda degli empi sparirà. Giobbe capitolo nono Allora Giobbe rispose e disse, sì, certo, io so che gli è così, e come sarebbe il mortale giusto davanti a Dio? Se all'uomo piacesse di patiar con Dio, non potrebbe rispondergli sovra un punto fra mille. Dio è savio di cuore, è grande in potenza, chi li ha tenuto fronte e se ne è trovato bene? Egli trasporta le montagne senza che se ne avvedano, nel suo furore le sconvolge, egli scuote la terra dalle sue basi, e le sue colonne tremano, comanda al sole, ed esso non spiega i cieli e cammina sulle più alte onde del mare, è il creatore dell'orsa, d'orione, delle pleaidi, e delle misteriose regioni del cielo australe. Egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie senza numero, ecco, e mi passa vicino e io non vego, e mi scivola d'accanto e non me n' accorgo, ecco, afferra la preda e chi si opporrà, chi oserà dirgli che fai? Il Dio non ritira la sua collera, sotto di lui si curvano i campioni della superbia, ed io, come farei a rispondergli e a scegliere le mie parole per discutere con lui? Avessi anche ragione, non gli replicherei, ma chiederei mercè al mio giudice. Sì io lo invocassi ed egli mi rispondesse, non però crederei che avesse dato ascolto alla mia voce, egli che mi piomba addosso dal seno della tempesta, che moltiplica senza motivo le mie piaghe, che non mi lascia riprender interfiato e mi sazia d'amarezza. Se si tratta di forza, ecco egli è potente, se ti diritto, e dice, chi mi fisserà un giorno per comparire, fosse pur giusto la mia bocca stessa mi condannerebbe, fossi pur integro essa mi farebbe dichiarar perverso, integro, sì lo sono, di me non mi preme, io disprezzo la vita, per me è tutt'uno, perciò dico, egli distrugge ugualmente l'integro e il malvagio, se un flagello a un tratto semina la morte, egli ride dello sgomento degli innocenti, la terra è data in balia dei malvagi, e vela gli occhi ai giudici di essa, se non è lui, chi è dunque? E i miei giorni se ne vanno più veloci d'un cordiere, fuggono via senza aver visto il bene, passano rapidi come navicelle di giunchi, come l'aquila che piomba sulla preda. Se dico voglio dimenticare il mio lamento, deporre quest'aria triste e riasserenarmi, sono spaventato di tutti i miei dolori, so che non mi trattrai per innocente, io sarò condannato perché dunque affaticarmi in vano, quando anche mi lavassi con la neve e mi nettassi le mani col sapone, tu mi tufferesti nel fango d'una fossa, le mie vesti stesse ma avrebbero in orrore. Dio non è un uomo come me perché io gli risponda e che possiamo comparire in giudizio assieme, non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due. Ritiri Dio d'addosso a me e la sua verga, cessi dallo spaventarmi il suo terrore, allora io parlerò senza temerlo già che sento di non essere quel colpevole che sembro. Continuiamo con Giobbe capitolo decimo L'anima mia prova di sgusto della vita vo dar libero corso al mio lamento vo parlare dell'amarezza dell'anima mia io dirò a Dio non mi condannare fammi sapere perché contendi meco ti par egli ben fatto d'opprimere di sprezzare l'opera delle tue mani e di favorire i disegni dei malvagi hai tu occhi di carne vedi tu come vede l'uomo i tuoi giorni sono essi come giorni del mortale i tuoi anni sono essi come gli anni degli uomini che tu investighi tanto la mia iniquità e ti informi così del mio peccato pur sapendo che io non sono colpevole e che non vecchimi liberi dalla tua mano le tue mani mi hanno formato mi hanno fatto tutto quanto tu mi distruggi Dea ricordati che m'hai plasmato come l'argilla e tu mi hai rifare ritornare ora in polvere non mai tu colato come il latte e fatto riprender come il cascio tu m'hai rivestito di pelle e di carne e m'hai intessuto d'ossa e di nervi mi sei stato largo di vita e di grazia la tua providenza ha vegliato sul mio spirito ed ecco quello che nascondevi in cuore sì lo so questo meditavi se avessi peccato l'avresti ben temuto a mente e non m'avresti assolto dalla mia iniquità se fossi stato malvagio guai a me se giusto non avreo ausato alzar la fronte sazio di ignominia aspettatore della mia miseria se l'avessi alzata m'avresti dato la caccia come ad un leone e contro di me avresti rinnovato le tue meraviglie ma avresti messo a fronte nuovi testimoni e avresti raddoppiato il tuo sdegno contro di me legioni su legioni mi avrebbero assalito e allora perché m'hai tratto dal seno di mia madre sarei spirato senza che occhio mi vedesse sarei stato come se non fossi mai esistito ma avrebbero portato dal seno materno alla tomba non sono forse pochi i giorni che mi restano cessi egli dunque mi lasci stare on dio mi rassereni un po prima che me ne vada per non più ritornare nella terra delle tenebre dell'ombra della morte terra oscura come notte profonda ove regnano l'ombra di morte e il caos e il cui chiarore è come notte oscura giobbe capitolo undicesimo allora Zophar di Naamma rispose e disse cotesta abbondanza di parole ribarai la senza risposta basterà egli esserlo quace per aver ragione varranno le tue ciance a far tacere la gente farai tu il beffardo senza che alcuno ti confonda tu dici a Dio quel che sostengo è giusto e io sono puro nel tuo cospetto ma oh se Dio volesse parlare aprir la bocca per risponderti e rivelarti segreti della sua sapienza poiché infinita è la sua intelligenza vedresti allora come Dio dimentichi parte della tua colpa puoi tu scandagliare le profondità di Dio arrivare a conoscere appieno l'onipotente si tratta di cose più alte del cielo e tu che faresti di cose più profonde del soggiorno dei morti e come le conosceresti la loro misura è più lunga della terra più larga del mare se Dio passa se incarcera se chiama in giudizio chi sopporrà poiché egli conosce gli uomini perversi scopre senza sforzo l'iniquità ma l'insensato diventerà savio quando un polledro donagro diventerà uomo tu però se ben disponi il cuore e protendi verso Dio le palme se allontani il male che è nelle tue mani e non alberghi l'iniquità nelle tue tende allora alzerai la fronte senza macchia sarà incrollabile e non avrai paura di nulla dimenticherai i tuoi affanni te ne ricorderai come d'acqua passata la tua vita sgorgerà più fulgita del meriggio l'oscurità sarà come la luce del mattino sarai fiducioso perché avrai speranza ti guarderai bene attorno e ti coricherai sicuro ti metterai a giacere e niente ti spaventerà e molti cercheranno il tuo favore ma gli occhi degli empi verranno meno non vi sarà più rifugio per loro e non avranno altra speranza che di esalar l'anima continuiamo a leggere il libro di Giobbe capitolo dodicesimo allora Giobbe rispose e disse voi certo valete quanto un popolo con voi morrà la sapienza ma del senno ne ho anch'io al par di voi non vi sono punto inferiore e cose come codeste chi non le sa io dunque vorrei essere un ludibrio degli amici io che invocavo il Dio ed Emi rispondeva il ludibrio io uomo giusto e integro io sprezzo alla sventura nel pensiero di chi vive contento esso è sempre pronto per coloro a cui vacilla il piede sono invece tranquille delle tende dei ladroni e chi provoca il Dio chi si fa un Dio della propria forza se ne sta al sicuro ma interroga un po' gli animali e te lo insegneranno gli uccelli del cielo e te lo mostreranno o parla alla terra ed essa te lo insegnerà e i pesci del mare te lo racconteranno chi non sa fra tutte queste creature che la mano dell'eterno ha fatto ogni cosa che egli tiene in mano l'anima di tutto quel che vive e lo spirito di ogni essere umano l'orecchio non discerne esso le parole come il palato assaggia le vivande nei vecchi si trova la sapienza e lunghezza di giorni da intelligenza ma in Dio stanno la saviezza e la potenza a Lui appartengono il consiglio e l'intelligenza ecco egli abbatte e nienuno può ricostruire chiude un uomo in prigione e non ve chi li apra ecco egli trattiene le acque e tutto inarridisce le lascia andare ed esse sconvolgon la terra egli possiede la forza e l'abilità da Lui dipendono chi erra e chi fa errare egli manda scalzi i consiglieri colpisce di demenza ai giudici scioglie i legami dell'autorità del re e cinge i loro fianchi di catene manda scalzi i sacerdoti e rovescia i potenti priva della parola i più eloquenti e toglie il discernimento ai vecchi sparge lo sprezzo sui nobili e rallenta la cintura ai forti rivela le cose recondite facendole uscire dalle tenebre e trae alla luce ciò che ha avvolto in ombra di morte aggradisce i popoli e li andienta ampia le nazioni e le riconduce nei loro confini toglie il senno ai capi della terra e li fa errare in solitudini senza sentiero va embrancolando nelle tenebre senza alcuna luce e li fa barcollare come briachi continuiamo a leggere il libro di giobbe capitolo tredicesimo ecco l'occhio mio tutto questo l'ha veduto l'orecchio mio l'ha udito e l'ha inteso quel che sapete voi lo so pur io non vi sono punto inferiore ma io vorrei parlare con l'onnipotente avrei caro di ragionare con Dio giacché voi siete dei fabbri di menzogne siete tutti quanti dei medici da nulla oh se serbasti il silenzio esso vi conterebbe come sapienza ascoltatevi prego quello che ho da rimproverarvi siete attenti alle ragioni delle mie labbra volete dunque difendere il Dio parlando iniquamente sostenere la sua causa con parole di frode volete aver riguardo alla sua persona e costituirvi gli avvocati di Dio sarà Egli un bene per voi quando vi scruterà a fondo credete ingannarlo come si inganna un uomo certo Egli vi riprenderà severamente se nel vostro segreto avete dei riguardi personali la mesta sua non vi farà sgomenti il suo terrore non piomberà su di voi i vostri detti memorandi sono massime di cenere i vostri baluardi sono baluardi d'argilla tacete lasciatemi stare voglio parlare io ma venga quel che può perché prenderei la mia carne coi denti metterò piuttosto la mia vita nelle mie mani ecco Egli mi ucciderà non spero più in nulla ma io difenderò in faccia a Lui la mia condotta anche questo servirà la mia salvezza poiché un empio non ardirebbe presentarsi a Lui ascoltate attentamente il mio discorso porgete orecchio a quanto sto per dichiararvi ecco io ho disposto ogni cosa per la causa so che sarò riconosciuto giusto v'è qualcuno che voglia farmi opposizione se v'è io mi taccio e vuo morire ma o Dio concedimi solo due cose e non mi nasconderò dal tuo cospetto ritirmi da dosso la tua mano e fa che i tuoi terrori non mi spaventi in più poi interpellami e io risponderò o parlerò io e tu replicherai quante sono le mie iniquità quanti i miei peccati fammi conoscere la mia trasgressione il mio peccato perché nascondi il tuo volto e mi tieni in conto di nemico vuoi tu atterrire una foglia portata via dal vento vuoi tu perseguitare una pagliuzza inaridita tu che mi condanni appena così amare e mi fai spiare i falli della mia giovinezza tu che metti i miei piedi nei ceppi che spii tutti i miei movimenti e tracci una linea intorno alla pianta dei miei piedi in tutto questo mio corpo si disfa come legno tarlato con un abito rosso dalle tignuole giobbe capitolo quattordicesimo l'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è sazio d'affanni spunta come un fiore poi è reciso fugge come un'ombra e non dura e sopra un essere così tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparir teco in giudizio e chi può trarre una cosa pura da una impura nessuno giacché i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare storna da lui lo sguardo sì che gli abbia un po' di requie e possa godere come un operaio la fine della sua giornata per l'albero almeno c'è speranza se è tagliato rigermoglia e continua a mettere rampolli quando la sua radice è invecchiata sottoterra e il suo tronco muore nel suolo a sentir d'acqua rinverdisce e mette rami come una pianta nuova ma l'uomo l'uomo muore e perde ogni forza il mortale spira e dov'è egli le acque del lago se ne vanno il fiume viene meno e si prosciuga così l'uomo giace e non risorge più finché non vi sian più cieli e non si risveglierà né sarà più destato dal suo sonno oh volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti tenermi occulto finché l'ira tua sia passata fissami un termine e poi ricordati di me se l'uomo dopo morto potesse ritornare in vita aspetterei tutti i giorni della mia fazione finché giungesse l'ora del mio cambio tu mi chiameresti e io risponderei tu brameresti rivedere l'opera delle tue mani ma ora tu conti i miei passi tu osservi i miei peccati le mie trasgressioni sono sigillate in un sacco e le mie iniquità altre ne aggiungi la montagna frane scompare la rupe è divelta dal suo luogo le acque rodono la pietra le loro inondazioni trascinano via la terra così tu distruggi la speranza dell'uomo tu lo sopraffai una volta per sempre ed egli se ne va gli muti il sembiante e lo mandi via se figliuoli salgono in onore egli lo ignora se vengano in dispregio e non lo vede questo solo sente che il suo corpo soffre che l'anima sua è in lutto Giobbe capitolo quindicesimo allora Eliphaz di Teman rispose e disse il savio risponde egli con vanascenza si gonfia egli il petto di vento si difende egli con ciance inutili e con parole che non giovano a nulla tu poi distruggi il timor di Dio meno il rispetto religioso che gli è dovuto la tua iniquità ti detta le parole e ad opera il linguaggio degli astuti non io la tua bocca stessa ti condanna le tue labbra stesse dipongono contro a te sei tu il primo uomo che nacque fosti tu formato prima dei monti hai tu sentito quel che si è detto nel consiglio di Dio hai tu fatto incetta nella sapienza per te solo che sai tu che noi non sappiamo che conoscenza hai tu che non sia pur la nostra ci son fra noi degli uomini canuti ed anche dei vecchi più attempati di tuo padre fai tu si poco caso alle consolazioni di Dio e delle dolci parole che t'abbiamo rivolte dove li trascina il cuore e che voglian dire codeste torve occhiate come tu volgi la tua collera contro Dio e ti lascia uscir di bocca tali parole che è mai l'uomo per essere puro il nato di donna per essere giusto ecco il Dio non si fida nemmeno dei suoi santi i cieli non sono puri agli occhi suoi quanto meno quest'essere abominevole e corrotto l'uomo che tracanna l'iniquità come l'acqua io voglio ammaestrarti porgi mi ascolto e ti racconterò quello che ho visto quello che i savi hanno riferito senza nulla scelare di quel che sapeano dai loro padri ai quali soli è stato dato il paese e in mezzo ai quali non è passato lo straniero l'empio è tormentato tutti i suoi giorni e pochi sono gli anni riservati al prepotente sempre ha negli orecchi rumori spaventosi e in piena pace li piomba addosso il distruttore non ha sapienza ad uscir tale dalle tenebre e si sente destinato alla spada va errando in cerca di pane e dove trovarne ei sa che a lui da presso è pronto il giorno tenebroso la distretta e l'angoscia lo riempon di paura la salgono a guisa di repronto alla pugna perché ha steso la mano contro Dio ha sfidato l'onnipotente gli si è slanciato audacemente contro sotto il folto dei suoi scudi convessi aveva la faccia coperta di grasso i fianchi carichi di pinguidine si era stabilito in città distrutte in case disabitate destinate a diventare mucchi di sassi ei non si arricchirà la sua fortuna non sarà stabile e nelle sue possessioni si estenderanno sulla terra non potrà liberarsi dalle tenebre il vento infuocato farà seccare i suoi rampolli e sarà portato via dal soffio della bocca di Dio non confidi nella vanità e nell'illusione perché avrà la vanità per ricompensa la sua fine verrà prima del tempo e i suoi rami non riverdiranno più sarà come vigna da cui si strappi l'uva ancora cerba come l'olivo da cui si scuota il fiore poiché sterile la famiglia del profano e il fuoco divora le tende dov'erano presenti l'empio concepisce malizia e partorice rovina e si prepara in seno il disinganno giobbe capitolo sedicesimo allora giobbe rispose e disse dico te ste cose ne ho dite tante siete tutti dei consolatori molesti non ci sarà egli una fine alle parole vane che cosa ti provoca a rispondere anch'io potrei parlare come voi se voi foste al posto mio potrei mettere assieme delle parole contro a voi e su di voi scrollare il capo potrei farvi coraggio con la bocca e il conforto delle mie labbra vi calmerebbe se parlo il mio dolore non ne sarà allenito e se cesso di parlare che sollievo ne avrò ora purtroppo Dio mi ha ridotto senza forza ha desolato tutta la mia casa ma coperto di grinze e questo testimonia contro di me la mia magrezza si leva ad accusarmi in faccia la sua ira mi lascera mi perseguita di grigna i denti contro di me il mio nemico agguzza gli occhi su di me aprono larga contro di me la bocca mi percuotano per lo proprio le guance mi mettono tutti insieme a darmi addosso e Dio mi dà in balia degli empi mi getta in mano dei malvagi vivevo in pace ed Egli mi ha scosso con violenza mi ha preso per la nuca e mi ha frantumato mi ha posto per suo bersaglio i suoi arcieri mi circondano e mi trafigge i reni senza pietà sparge e atterra il mio fiele apre sopra di me breccia su breccia mi corre addosso come un guerriero mi son cuscito un cilicio sulla pelle ho prostrato la mia fronte nella polvere il mio viso è rosso di pianto e sulle mie palpebre si stende l'ombra di morte eppure le mie mani non commisero mai violenza la mia preghiera fu sempre pura oh terra non coprire il mio sangue non vi sia il luogo dove si fermi il mio grido già fin d'ora ecco il mio testimonio è in cielo il mio garante è nei luoghi altissimi gli amici mi deridono ma a Dio si volgan piangenti gli occhi miei sostenga egli le ragioni dell'uomo presso Dio le ragioni del figliol dell'uomo contro i suoi compagni poiché pochi anni ancora e me ne andrò per una via senza ritorno continuiamo a leggere dal libro di Giobbe capitolo dicesettesimo il mio soffio vitale si spenge i miei giorni si estinguono il sepolcro m'aspetta sono attorniato da schermitori e non posso chiudere occhio per via delle loro parole amare oh Dio da un pegno sii tu il mio malevatore presso di te se no chi metterà la sua nella mia mano poiché tu hai chiesto il cuore di costoro nella ragione e però non li fai trionfare chi denunzia un amico si che diventi preda altrui vedrà venir meno gli occhi dei suoi figli egli mi ha reso la favola dei popoli e son diventato un essere a cui si sputa in faccia l'occhio mio si oscura per il dolore tutte le mie membra non son più che un'ombra gli uomini retti ne son colpiti di stupore l'innocente insorge contro l'empio ma il giusto si attiene saldo alla sua via e chi ha le mani pure vi è più si fortifica quanto a voi tutti tornate pure fatevi avanti ma fra voi non troverò alcun savio i miei giorni passano i miei disegni i disegni cari al mio cuore son distrutti e costoro pretendon che la notte sia giorno e che la luce si avvicina quando è tutto buio se aspetto come casa mia il soggiorno dei morti se già mi son fatto il letto nelle tenebre se ormai dico al sepolcro tu sei mio padre e ai vermi siete mia madre e mia sorella dove è dunque la mia speranza questa speranza mia chi la può scorgere essa scenderà alle porte del soggiorno dei morti quando nella polvere troverai un riposo assieme Giobbe capitolo diciottesimo allora Bildad di Suac rispose e disse quando porrete fine alle parole fate senno e poi parleremo poiché siamo considerati come bruti e perché siamo agli occhi vostri degli esseri impuri o tu che nel tuo cruccio lasceri te stesso dovrà la terra per cagion tua essere abbandonata e la roccia essere rimossa dal suo luogo si la luce dell'empio si spegne e la fiamma del suo fuoco non brilla la luce si oscura nella sua tenda e la lampada che egli sta sopra si spegne i passi che fascean nella sua forza si raccorciano e i suoi propri disegni lo menano a rovina poiché i suoi piedi lo traggono nel tranello e va camminando sulle reti il laccio afferra il suo tallone e la trappola lo garnisce sta nascosta in terra per lui l'insidia e sul sentiero lo aspettano agguato paure lo atterriscano d'ogni intorno e lo inseguono e gli stanno alle calcagna la sua forza viene meno dalla fame la calamità gli sta pronta al fianco gli devora pezzo a pezzo la pelle gli devora le membra il primo genito della morte egli è strappato dalla sua tenda che credeva sicura e fatto scendere verso il re degli spaventi nella sua tenda dimora chi non è dei suoi e la sua casa è cosparsa di zolfo in basso si inarridiscono le sue radici e in alto sono tagliati i suoi rami la sua memoria scompare dal paese più non so del suo nome per le campagne è cacciato dalla luce nelle tenebre ed è bandito dal mondo non lascia tra il suo popolo né figli né nipoti nessun superstite dove egli soggiornava quei d'occidente sono stupiti della sua sorte e quei d'oriente non se ne sono presi che orrore certo sono tale le dimore dei perversi e tale è il luogo di chi non conosce il Dio Giobbe capitolo diciannovesimo allora Giobbe rispose e disse fino a quando affliggerete l'anima mia e mi tormenterete coi vostri discorsi sono già dieci volti che mi insultate e non vi vergognate di malmenarmi dato pure che io abbia errato il mio errore concerne me solo ma se proprio volete insuperbire contro di me e rimproverarmi la vergogna in cui mi trovo allora sappiatelo chi m'ha fatto torto e m'ha avvolto nelle sue reti è Dio ecco io grido violenza e nessuno risponde imploro aiuto ma non c'è giustizia Dio m'ha sbarrato la via e non posso passare ha coperto di tenebra il mio cammino ma spogliato dalla mia gloria ma tolto dal capo la corona ma demolito a brano a brano e io me ne vo ha sradicata come un albero la mia speranza ha acceso l'ira sua contro di me ma considerato come suo nemico le sue schiere sono vedute tutte insieme si sono spianata la via fino a me han posto il campo intorno alla mia tenda egli ha allontanato da me i miei fratelli i miei conoscenti si sono del tutto alienati da me m'hanno abbandonato i miei parenti gli intimi miei m'hanno dimenticato i miei domestici e le mie serve mi trattano da straniero gli occhi loro sono come se fossi a loro un estraneo chiamo il mio servo e non risponde devo supplicarlo con la mia bocca il mio fiato ripugna la mia moglie faccio pietà a chiunque nacque dal seno di mia madre perfino i bimbi mi sprezzano se cerco d'alzarmi mi scherniscono tutti gli amici più stretti mano in orrore e quelli che amavo mi son volti contro le mie ossa stanno attaccate alla mia pelle alla mia carne non mi è rimasto che la pelle dei denti pietà pietà di me e voi i miei amici che la mano di Dio mi ha colpito perché perseguitarmi come fa Dio perché non siete mai sazi della mia carne oh se le mie parole fossero scritte se fossero consegnate in un libro se con lo scarpello di ferro e col piombo fossero incisi nella roccia per sempre ma io so che il mio vindice vive e che alla fine si leverà sulla polvere e quando dopo la mia pelle sarà distrutta questo corpo senza la mia carne vedrò il Dio io lo vedrò a me favorevole lo contempleranno gli occhi miei non quelli di un altro il cuore dalla brava mi si strugge in seno se voi dite come lo perseguiteremo come troveremo in lui la causa prima dei suoi mali temete per voi stessi la spada che furosi sono i castighi della spada affinché sappiate che v'è una giustizia Giobbe capitolo ventesimo allora Zophar di Namma rispose e disse quel che tu dici mi spinge a risponderti e ne suscita a me un fervido impulso ho udito rimproveri che mi hanno oltreggiato ma lo spirito mio mi darà una risposta assennata non lo sai tu che in ogni tempo da che l'uomo è stato posto sulla terra il trionfo dei malvagi e breve e la gioia degli empi non dura che in un istante quando la sua altezza giungesse fino al cielo e il suo capo toccasse le nubi l'empio perirà per sempre come lo sterco suo quelli che lo vedevano diranno e dov'è se ne volerà via come un sogno e non si troverà più dileguerà come una visione notturna l'occhio che lo guardava cesserà di vederlo la sua dimora più non lo scorgerà i suoi figli si raccomanderanno ai poveri le sue mani restituiranno la sua ricchezza il vigor giovanile che gli riempiva l'ossa giacerà nella polvere con lui il male dolce alla sua bocca se lo nasconde sotto la lingua lo risparmia non lo lascia andar giù lo trattiene sotto il suo palato ma il cibo gli si trasforma nelle viscere e gli diventa in corpo veleno dispide ha trangugiato ricchezze e le vomiterà il Dio stesso gliene ricaccerà dal ventre ha succhiato veleno d'aspide la lingua della vipera l'ucciderà non godrà più la vista delle acque perenni né di rivi fluenti di miele e di latte renderà il frutto delle sue fatiche senza poterlo ingoire pari alla sua ricchezza sarà la restituzione che ne dovrà fare e così non godrà dei suoi beni perché ha oppresso e abbandonato il povero si è impadronito di case che non aveva costruite perché la sua ingordigia non conobbe requie egli non salverà nulla di ciò che ha tanto bramato la sua voracità non risparmiava nulla perciò il suo benessere non durerà nel colmo dell'abbondanza si troverà in penuria la mano di chiunque ebbe a soffrire tormenti si eleverà contro di lui quando sarà per riempirsi il ventre ecco il dio manderà contro a lui l'ardore della sua ira gliela farà piovere addosso per servirgli di cipo se scampa le armi di ferro lo trafigge l'arco di rame se scampa il dardo esso gli esce dal corpo la punta sfolgorante gli viene fuori dal fiele lo assalgono i terrori della morte buio profondo e riservato ai suoi tesori lo consumerà un fuoco non attizzito dall'uomo che divorerà quel che resta della sua tenda il cielo rivelerà la sua iniquità e la terra insorgerà contro di lui le rendite della sua casa se ne andranno portate via nel giorno dell'ira di Dio tale la parte che Dio riserva all'empio tale il retaggio che Dio gli destina Giobbe capitolo ventunesimo allora Giobbe rispose e disse porgete ben ascolto alle mie parole e sia questa la consolazione che mi date sopportatemi lasciate che io parli e quando avrò parlato tu mi potrai deridere mi lagno io forse d'un uomo e come farei a non perder la pazienza guardatemi stupite e mettetevi la mano sulla bocca quando ci penso ne sono smarrito e la mia carne è presa da raccapriccio perché mai vivono gli empi perché arrivano alla vecchiaia e anche crescono di forse la loro proviene e prospera sotto i loro sguardi e intorno ad essi i loro rampolli fioriscono sotto gli occhi loro la loro casa è in pace al sicuro da spaventi e la verga di Dio non li colpisce il loro toro monta e non falla la loro vacca figlia senza abortire mandano fuori come un greggio i loro piccini e i loro figliuoli saltano e ballano cantano al suon di timpano e di cedra si rallegrano al suono della zampogna passano felici i loro giorni poi scendano in un attimo nel soggiorno dei morti eppure diceano a Dio ritirati da noi noi non ci curiamo di conoscere le tue vie che è l'onipotente perché lo serviamo che guadagneremo a pregarlo ecco non hanno essi in mano la loro felicità lungi da me il consiglio degli empi quando avvien mai che la lucerna degli empi si spenga che piombi loro addossa alla ruina e che Dio nella sua ira li retribuisca di pene quando son essi mai come paglia al vento come pula portata via dall'uragano e Dio mi dite serba castigo per i figli dell'empio ma pulisca lui stesso che lo senta lui che vegga con gli occhi suoi propri la sua ruina e beva egli stesso l'ira dell'onipotente e che importa all'empio della sua famiglia dopo di lui quando il numero dei suoi mesi è ormai compiuto si insegnerà forse a Dio la scienza a lui che giudica quelli di lassù l'uno muore in mezzo al suo benessere quando è pienamente tranquillo e felice ha i secchi piani di latte e fresco il midollo dell'ossa l'altro muore con l'amarezza nell'anima senza aver mai gustato il bene ambedue giacciono ugualmente nella polvere e i vermi li ricoprono ah li conosco i vostri pensieri e i piani che formate per abbattermi voi dite e dov'è la casa del potente e dov'è la tenda che albergava gli empi non avete dunque interrogato quelli che hanno viaggiato voi non vorrete negare quello che attestano che cioè il malvagio è risparmiato nel dì della ruina che nel giorno dell'ira gli sfugge chi li rimprovera in faccia la sua condotta chi li rende quel che ha fatto egli è portato la sepoltura con onore e veglia gli stesso sulla sua tomba lievi sono a lui le zolle della valle dopo tutta la gente segue le sue orme e anche prima una folla immensa fu come lui perché dunque moffrite consolazioni vane dalle vostre disposte altro non resta che falsità Giobbe capitolo ventiduesimo allora Eliphaz di Teman rispose e disse può l'uomo recare qualche vantaggio a Dio no il Savio non reca vantaggio che a se stesso se sei giusto ne vien forse qualche diletto all'onipotente se sei integro nella tua condotta ne ritrae egli un guadagno è forse per la paura che ha di te che egli ti castiga o vienteco in giudizio la tua malvagità non è essa grande e le tue iniquità non sono esse infinite tu per un nulla prendevi pegno dai tuoi fratelli spognavi loro delle loro vesti i mezzi nudi allo stanco non davi a bere dell'acqua all'affamato rifiutavi del pane la terra apparteneva al più forte e l'uomo influente vi piantava la sua dimora rimandavi a vuoto le vedove e le braccia degli orfani erano spezzate ecco perché sei circondato di lacci e spaventato da subiti terrori oh non vedi le tenebre che t'avvolgano e la piena dell'acqua che ti sommerge il dio non è egli lassù nei cieli guardala sulle stelle eccelse come stanno in alto e tu dici il dio che sa può egli giudicare attraverso il buio fitte nubi lo coprono e nulla vede egli passeggia sulla volta dei cieli vuoi tu dunque seguire l'antica via per cui camminarono gli uomini iniqui che furono portati via prima del tempo e il cui fondamento fu come un torrente che scorre essi dicevano a dio ritirati da noi e chiedevano che mai potesse far loro l'onipotente eppure il dio aveva riempito le loro case di beni allungi da me il consiglio dell'empi i giusti vendono la loro ruina ne gioiscono e l'innocente si fa beffe di loro vedete se non sono distrutti gli avversari nostri la loro abbondanza l'ha divorata il fuoco riconciliati dunque con dio e avrai pace e ti sarà resa la prosperità ricevi istruzioni dalla sua bocca e riponi le sue parole nel tuo cuore se torni all'onipotente se allontani l'iniquità dalle tue tende sarai ristabilito getta l'oro nella polvere e l'oro doppie fra i ciottoli del fiume e l'onipotente sarà il tuo oro egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica allora farai dell'onipotente la tua delizia e alzerai la faccia verso dio lo pregherai ed egli ti esaudirà e tu scioglierai i voti che avrai fatto quello che imprenderai ti riuscirà sul tuo cammino risplenderà la luce se ti abbassano tu dirai in alto e dio soccorrerà chi ha gli occhi in terra libererà anche colui che è innocente e sarà salvo per la purità delle sue mani continuiamo a leggere nel libro di giobbe al ventitreesimo capitolo allora giobbe rispose e disse anche oggi il mio lamento è una rivolta per quanto io cerchi di comprimere il mio gemito oh sapessi dove trovarlo potessi arrivare fino al suo trono esporrei la mia causa dinanzi a lui e riemperei d'argomenti la mia bocca saprei qualche che mi risponderebbe e capirei quello che avrebbe da dirmi contenderebbe egli meco con la sua grande potenza no invece mi presterebbe attenzione là sarebbe un uomo retto a discutere con lui e sarei dal mio giudice assolto per sempre ma ecco che se vò ad oriente egli non c'è ad occidente non lo trovo sia settentrione quando vi opera io non lo veggo si nasconde egli nel mezzodì e io non lo scorgo ma la via che batto e la sa se mi mettesse alla prova ne uscirei come loro il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme mi son tenuto sulla sua via senza deviare non mi sono scostato dai comandamenti delle sue labbra ho riposto nel mio seno le parole della sua bocca ma la sua decisione è una chi lo farà mutare quello che desidera lo fa egli seguirà quel che di me ha decretato e di cose come queste ne ha molte in mente perciò nel suo cospetto io sono atterrito quando ci penso ho paura di lui il dio mi ha tolto il coraggio l'onipotente mi ha spaventato questo mi annienta non le tenebre non la fitta oscurità che mi ricopre giobbe capitolo ventiquattresimo perché non sono dall'onipotente fissati dei tempi in cui renda la giustizia perché quelli che lo conoscono non veggono quei giorni gli empi spostano i termini rapiscano i gregi li menano a pascere portano via l'asino dall'orfano prendono impegno il boveda la vedova mandano via dalla strada i bisognosi i poveri del paese si nascondano tutti insieme eccoli che come onagri del deserto escono dal loro lavoro in cerca di cibo solo il deserto dà pane ai loro figlioli raccolgono nei campi la loro pastura raspollano nella vigna del limpio passa la notte ignudi senza vestito senza una coperta che le ripari dal freddo bagnati dalle acquazzoni di montagna per mancanza di rifugio si stringono alle rocce ce n'è di quelli che strappano dalla mammella l'orfano che prendono pegni dai poveri e questi se ne vanno ignudi senza vestiti hanno fame e portano i covoni fanno l'olio del recinto del limpio calcan l'uva nel tino e patiscono la sete sale dalla città il gemito dei morenti l'anima dei feriti implora aiuto e Dio non si cura di coteste infamie ve ne sono di quelli che si ribellano alla luce non riconoscono le vie non ne battono i sentieri l'assassino si leva sul falder giorno e ammazza il meschino e il povero la notte fa il ladro l'occhio dell'adultero spia il crepuscolo dicendo nessuno mi vedrà e si copre d'un velo la faccia i ladri di notte sfondano le case di giorno si tengono rinchiusi non conoscono la luce il mattino è per essi come ombra di morte appena lo scorgano trovano i terrori del buio voi dite l'empio è una festuca nella faccia delle acque e la sua parte sulla terra è maledetta non prenderà più la via delle vigne come la siccità e il calore assorbono le acque della neve così il soggiorno dei morti inghiottisce chi ha peccato il seno che lo portò l'oblia e i vermi ne fanno il loro pasto delizioso nessuno più lo ricorda l'iniquio sarà troncato come un albero e che divorava la sterile priva di figli e non faceva del bene alla vedova invece il Dio con la sua forza prolunga i giorni dei prepotenti i quali risorgono quando ormai disperavano dalla vita da loro sicurezza fiducia e i suoi occhi vegliano sul loro cammino salgano in alto poi scompaiono ad un tratto cadono sommietuti come gli altri mortali son falcati come le spighe del grano maturo se così non è chi mi smentirà chi annienterà il mio dire giobbe capitolo venticinquesimo allora bilda di suac rispose e disse a Dio appartiene il dominio e il terrore egli fa regnare la pace nei suoi luoghi altissimi le sue legioni si possano forse contare su chi non si leva alla sua luce come può dunque l'uomo essere giusto dinanzi a Dio come può essere puro il nato della donna ecco la luna stessa manca di chiarore le stelle non sono pure gli occhi di lui quanto meno l'uomo che è un verme e il figlio dell'uomo che è un vermucciuolo Giobbe capitolo ventisiesimo allora Giobbe rispose e disse come hai ben aiutato il debole come hai sorretto il braccio senza forza come hai ben consigliato chi è privo di sapienza e che abbondanza di sapere che tu gli hai comunicato ma a chi ti credi di aver parlato e di chi è lo spirito che parla per mezzo tuo dinanzi a Dio tremano le ombre di sotto alle acque e dai loro abitanti dinanzi a Lui il soggiorno dei morti è ignudo l'abisso è senza velo egli distende il setentrione sul vuoto sospende la terra sul nulla richiude le acque nelle sue nubi e le nubi non scoppiano per il peso nasconde l'aspetto del suo trono vi si distende sopra le sue nuvole ha tracciato un cerchio sulla faccia delle acque là dove la luce confina con le tenebre le colonne del cielo sono scosse e tremano alla sua minaccia con la sua forza egli solleva il mare con la sua intelligenza ne abbatte l'orgoglio al suo soffio il cielo torna sereno la sua mano trafigge il drago fuggente ecco questi non sono che gli estremi lembi dell'azione sua non ce ne giunge all'orecchio che un breve sussurro ma il tuono delle sue potenti opere chi lo può intendere continuiamo a leggere nel libro di Giobbe ventisettesimo capitolo Giobbe riprese il suo discorso e disse come vive il Dio che mi nega giustizia come vive l'onipotente che mi amareggia l'anima finché avrò fiato e il soffio di Dio sarà nelle mie nari le mie labbra no non diranno nulla di ingiusto e la mia lingua non proferirà falsità lungi da me l'idea di darvi ragione fino all'ultimo respiro non mi lascerò togliere la mia integrità ho preso a difendere la mia giustizia e non cederò il cuore non mi rimprovera un solo dei miei giorni sia trattato da malvagio il mio nemico e da perverso chi si leva contro di me quale speranza rimane mai all'empio quando il Dio gli toglie gli rapisce l'anima e Dio presterà egli orecchio al grido di lui quando egli vorrà sopra la distretta potrà egli prendere il suo diletto nell'onipotente invocare Dio in ogni tempo io vi mostrerò il modo d'agire di Dio non vi nasconderò i disegni dell'onipotente ma queste cose voi tutti le avete osservate e perché dunque vi perdete in vani discorsi ecco la parte che Dio riserva l'empio l'eredità che l'uomo violento riceve dall'onipotente se ha figli in gran numero sono per la spada la sua progenie non avrà pane da saziarsi i superstiti sono sepolti dalla morte e le vedove loro non li rimpiangono se accumula l'argento come polvere se ammucchia vestiti come fango li ammucchia sì ma se ne vestirà il giusto e l'argento l'avrà come la sua parte l'innocente la casa che si edifica è come quella della tignuola come il capanno che fa il guardiano della vigna va a letto ricco ma per l'ultima volta apre gli occhi e non è più terrori lo sorprendono come acque nel cuor della notte lo rapisce un uragano il vento d'oriente lo porta via ed egli se ne va lo spazza in un turbine dal luogo suo e Dio gli scaglia addosso i suoi dardi senza pietà per quanto egli tenti di scampare i suoi colpi la gente batte le mani quando cade e fischia dietro a lui quando lascia il luogo dove stava Giobbe capitolo ventottesimo ha una miniera d'argento e l'oro un luogo dove si raffini il ferro si cava dal suolo e la pietra fusa dai rame l'uomo ha posto fine alle tenebre egli esplora i più profondi recessi per trovare le pietre che sono nel buio o nell'ombra di morte scava un pozzo lontano dall'abitato il piede più non serve a quel che vi ha lavorato sono sospesi oscillano lungi dai mortali dalla terra esce il pane ma nelle sue viscere è sconvolta come dal fuoco le sue rocce sono la dimora dello zaffiro e vi si trova della polvere d'oro l'uccello di rapina non conosce il sentiero che vi mena nella mai scorto l'occhio del falco le fiere superbe non vi hanno messo piede e il leone non v'è passato mai l'uomo stende la mano sul granito rovescia dalle radici le montagne pratica trafori per entro le rocce e l'occhio suo scorge quanto v'è di prezioso infrena le acque perché non gemano e le cose nascoste tra i fuori alla luce ma la sapienza dove trovarla e dov'è il luogo dell'intelligenza l'uomo non ne sa la via non la si trova sulla terra dei viventi l'abisso dice non è in me il mare dice non sta in me non la si ottiene in cambio d'oro non la si compra a peso d'argento non la si acquista con l'oro d'offir con l'onice prezioso e con lo zaffiro l'oro ed il vetro non reggano al suo confronto non la si dà in cambio di vasi d'oro fino non si parli di corallo di cristallo la sapienza va al più delle perle e il topazio d'etiopia non può starle in fronte l'oro puro non ha bisogno di valore donde viene dunque la sapienza dov'è il luogo dell'intelligenza essa è nascosta agli occhi del vivente ed è celata agli uccelli del cielo l'abisso e la morte dicono ne abbiamo avuto qualche sentore Dio solo conosce la via che vi mena egli solo sa il luogo dove dimora perché il suo sguardo giunge sino all'estremità della terra perché gli vede tutto quel che è sotto i cieli quando regolò il peso del vento e fissò la misura dell'acqua quando dette una legge alla pioggia e tracciò la strada al lampo dei tuoni allora la vide e la rivelò la stabilì ed anche l'investigò e disse all'uomo ecco temete il Signore questa è la sapienza e fuggire il male è l'intelligenza Giobbe capitolo ventinovesimo Giobbe riprese il suo discorso e disse oh fossi come nei mesi d'una volta come nei giorni in cui Dio mi proteggeva quando la sua lampada mi risplendeva sul capo e alla sua luce io camminavo nelle tenebre oh fossi come ero ai giorni della mia maturità quando il Dio vegliava amico sulla mia tenda quando l'Onnipotente stava ancora meco e avevo i miei figliuoli dintorno e quando mi lavavo i piedi nel latte e dalla roccia mi fluivano ruscelli d'olio allora che uscivo per andare alla porta della città e mi facevo preparare il seggio sulla piazza i giovani al vedermi si ritiravano i vecchi si alzavano e rimanevano in piedi e i maggiorenti cessavano di parlare e si mettevano la mano sulla bocca la voce dei capi diventava muta e la lingua si attaccava al loro palato l'orecchio che mi udiva mi diceva beato l'occhio che mi vedeva mi rendea testimonianza perché salvavo il misero che gridava aiuto e l'orfano che non aveva chi lo soccorresse scendea su me la benedizione di chi stava per perire e facevo esultare il cuore della vedova la giustizia era il mio vestimento ed io il suo la probità era come il mio mantello e il mio turbante ero l'occhio del cieco il piede dello zoppo ero il padre dei poveri e studiavo a fondo la causa dello sconosciuto spezzavo la ganascia all'inique e gli facevo lasciare la preda che aveva fra i denti e dicevo morrò nel mio nido e moltiplicherò i miei giorni come l'arena le mie radici si stenderanno verso l'acque la rugiada passerà la notte sui miei rami la mia gloria sempre si rinnoverà e l'arco rinverdirà nella mia mano gli astanti mi ascoltavano pieni d'aspettazione e si tacevano per udire il mio parere quando avevo parlato non replicavano la mia parola scendeva su loro come una rugiada e mi aspettavano come si aspetta la pioggia aprivan larga la bocca come a un'acquazione di primavera io sorridevo loro quando erano sfiduciati e non potevano oscurare la luce del mio volto quando andavo da loro mi sedevo come capo ed ero come un re fra le loro schiere come un consolatore in mezzo agli afflitti continuiamo a leggere nel libro di Giobbe siamo al capitolo trentesimo ed or servo di Zimbello e dei più giovani di me i cui padre non mi sarei degnato di mettere fra i cani del mio grege e a che mi avrebbe servito la forza delle loro mani gente incapace a raggiungere l'età matura smunta dalla miseria e dalla fame ridotta a brucare il deserto la terra da tempo nuda e desolata strappando erba salsa presso i cespugli ed avendo per pane radici di ginestra sono scacciati di mezzo agli uomini grida lor dietro la gente come dietro al ladro abitano in burroni orrendi nelle caverne della terra e fra le rocce ragliano fra i cespugli si sdraiano alla rinfusa sotto i rovi gente da nulla razza senza nome cacciata via dal paese abbastonate e ora io sono il tema delle loro canzoni il soggetto dei loro discorsi mi abborrono mi fuggono non si trattengano dallo sputarmi in faccia non han più ritegno m'umiliano rompono ogni freno mia presenza questa genia si leva la mia destra mi incalzano e si appianano le vie contro di me per distruggermi hanno sorvertito il mio cammino lavorano alla mia rovina essi che nessuno vorrebbe soccorrere s'avanzano come per un'ampia breccia si precipitano innanzi in mezzo le rovine terrori mi si rovesciano addosso l'onor mio è portato via come dal vento è passata come una nube la mia felicità e ora l'anima mia si strugge in me m'hanno colto i giorni dell'afflizione la notte mi trafigge mi stacca l'ossa e i dolori che mi rodano non hanno posa per la gran violenza del mio male la mia veste si sforma mi si serra addosso come la tunica il Dio m'ha gettato nel fango e rassomiglio alla polvere e alla cenere io grido a te e tu non mi rispondi ti sto dinanzi e tu mi stai a considerare ti sei mutato in un nemico crudele verso di me mi perseguiti con la potenza della tua mano mi levi per aria mi fai portar via dal vento e mi annienti nella tempesta giacché lo so tu mi meni alla morte alla casa di convegno di tutti i viventi ma che sta per perire ma che sta per perire non protende la mano e all'angoscia sua non grida al soccorso non piangevo io forse per chi era nell'avversità l'anima mia non era illangustiata per il povero speravo il bene ed è avvenuto il male aspettavo la luce ed è venuta l'oscurità le mie viscere bollono e non hanno requie son venuti per me giorni d'afflizione me ne vo tutto anerito ma non dal sole mi levo in mezzo alla radunanza e grido aiuto son diventato fratello degli sciacalli compagno degli struzzi la mia pelle è nera e cade a pezzi le mie ossa son calcinate dall'arsura la mia cetra non dà più accenti di lutto e la mia zampogna voce di pianto Giobbe capitolo trentunesimo io avevo stretto un patto con gli occhi miei come dunque avrei fissati gli sguardi sopra una vergine che parte mi avrebbe assegnata il Dio dall'alto e quale eredità mi avrebbe data l'onnipotente dai luoghi eccelsi la sventura non è ella per il perverso e le sciagure per quelli che fanno il male il Dio non vede egli le mie vie non conta tutti i miei passi se ho camminato insieme alla menzogna se il piede mio si è affrettato dietro alla frode il Dio mi pesi con la bilancia giusta e riconoscerà la mia integrità se i miei passi sono usciti dalla retta via se il mio cuore è andato dietro ai miei occhi se qualche sozzura mi si è attaccata alle mani che io semini e un altro mangi e quel che è cresciuto nei miei campi sia sradicato se il mio cuore si è lasciato sedurre per amore d'una donna se ho spiato la porta del prossimo che mia moglie giri la macina ad un altro e che gli altri abusino di lei poiché quella è un'asceleratezza un misfatto punito dai giudici un fuoco che consuma fino alla perdizione e che avrebbe distrutto fin dalle radici ogni mia fortuna se ho disconosciuto il diritto del mio servo e della mia serva quando era meco in lite che farei quando il Dio si levasse per giudicarmi e che risponderei quando mi esaminasse chi fece me nel seno di mia madre non fece anche lui non ci ha formati nel seno materno uno stesso il Dio se ho rifiutato ai poveri quel che desideravano se ho fatto languire gli occhi della vedova se ho mangiato da solo il mio pezzo di pane senza che l'orfano ne mangiasse la sua parte io che fin da giovane l'ho allevato come un padre io che fin dal seno di mia madre sono stato guida alla vedova se ho visto uno perire per mancanza di vesti o il povero senza una coperta se non m'hanno benedetto i suoi fianchi ed egli non si è riscaldato con la lana dei miei agnelli se ho levato la mano contro l'orfano perché mi sapevo sostenuto alla porta che la mia spalla si stacchi dalla sua giuntura e il mio braccio si spezzi e cada e in vero mi spaventava il castigo di Dio ed ero trattenuto dalla maestà di Lui se ho riposto la mia fiducia nell'oro se a loro fino ho detto tu sei la mia speranza se mi son rallegrato che le mie ricchezze fossero grandi e la mia mano avesse molto accumulato se contemplando il sole che raggiava e la luna che precedeva lucente nel suo corso il mio cuore in segreto si è lasciato sedurre e la mia bocca ha posato un bacio sulla mano mi sfatto anche questo punito dai giudici che avrei di fatti rinnegato l'iddio che è di sopra se mi sono rallegrato alla sciagura del mio nemico e ho esultato quando egli ha incolto sventura io che non ho permesso alle mie labbra di peccare chiedendo la sua morte con imprecazione se la gente della mia tenda non ha detto chi è che non si sia saziato della carne delle sue bestie lo straniero non passava la notte fuori le mie porte erano aperte al viandante se come fan gli uomini ho coperto i mie falli celando nel petto la mia iniquità perché avevo paura della folla e dello sprezzo delle famiglie al punto di starmi iniquieto e non uscir di casa oh avessi pure chi mi ascoltasse ecco qua la mia firma l'onipotente mi risponda scriva l'avversario mio la sua querela ed io la porterò attaccata alla mia spalla me la cingerò come un diadema gli renderò conto di tutti i miei pasi e lui ma presserò come un principe se la mia terra mi grida contro se tutti i suoi solchi piangono se ne ho mangiato il frutto senza pagarla se ho fatto sospirare chi la coltivava che invece di grano mi nascano spine e invece d'orso mi crescano zizzanie Giobbe capitolo trentaduesimo quei tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe perché egli si credeva giusto allora l'ira di Eliù figliolo di Barachil il busita della tribù di Ram s'accese s'accese contro Giobbe perché riteneva giusto se stesso anziché Dio s'accese anche contro i tre amici di lui perché non avevano trovato che rispondere sebbene condannassero Giobbe ora siccome quelli erano più attempati di lui Eliù aveva aspettato a parlare a Giobbe ma quando vide che dalla bocca di quei tre uomini non usciva più risposta s'accese d'ira ed Eliù figliolo di Barachil il busita rispose e disse io son giovane di età e voi siete vecchi perciò mi son tenuto indietro e non ho ardito esporvi il mio pensiero dicevo parleranno i giorni e il gran numero degli anni insegnerà la sapienza ma nell'uomo quel che lo rende intelligente è lo spirito è il soffio dell'onipotente non quelli di lunga età sono sapienti né i vecchi sono quelli che comprendono il giusto perciò dico ascoltatemi vi esporrò anch'io il mio pensiero ecco ho aspettato i vostri discorsi ho ascoltato i vostri argomenti mentre andavate cercando altre parole v'ho seguito attentamente ed ecco nessun di voi ha convinto Giobbe nessuno ha risposto alle sue parole non avete dunque ragione di dire abbiamo trovato la sapienza Dio soltanto lo fa cedere non l'uomo egli non ha diretto i suoi discorsi contro a me e Dio non li risponderò con le vostre parole eccoli sconcertati non rispondo in più non trovo in più parole ed ho aspettato che non parlassero più che restassero e non rispondessero più ma ora risponderò anch'io per mio conto esporrò anch'io il mio pensiero perché sono pieno di parole e lo spirito che è dentro di me mi stimola ecco il mio seno è come vin rinchiuso e simile ad otri pieni di vin nuovo che stanno per scoppiare parlerò dunque mi solleverò aprirò le labbra e risponderò e lasciate che io parli senza riguardi personali senza adulare alcuno poiché adulare io non so se lo facessi il mio fattore tosto mi torrebbe di mezzo Giobbe capitolo trentatreesimo ma pure ascolta o Giobbe il mio dire porci orecchio a tutte le mie parole ecco apro la bocca la lingua parla sotto il mio palato nelle mie parole la rettitudine del mio cuore e le mie labbra diranno sinceramente quello che so lo spirito di Dio m'ha creato il soffio dell'Onipotente mi dà vita se puoi rispondermi prepara le tue ragioni fatti avanti ecco io sono uguale a te davanti a Dio anch'io fui tratto dall'argilla spavento di me non potrà quindi sgomentarti e il peso della mia autorità non ti potrà schiacciare davanti a me tu dunque hai detto e ho ben udito il suono delle tue parole io sono puro senza peccato sono innocente non c'è iniquità in me ma Dio trova contro di me degli appigli ostili mi tiene per suo nemico mi mette i piedi nei ceppi spia tutti i movimenti e io ti rispondo in questo non hai ragione giacché Dio è più grande dell'uomo perché contendi con lui poiché egli non rende conto d'alcuno dei suoi atti e Dio parla bensì una volta ed anche due ma l'uomo non ci bada parla per via di sogni di visioni notturne quando un sonno profondo cade sui mortali quando sui loro letti essi giascano assopiti allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo d'agire e tener lungi da lui la superbia per salvargli l'anima dalla fossa la vita dal tardo mortale l'uomo è anche ammonito sul suo letto nel dolore dall'agitazione incessante delle sue ossa quando egli ha in avversione il pane l'anima sua schifa i cibi più squisiti e la carne gli si consuma e sparisce mentre le ossa prima invisibili gli escono fuori l'anima sua si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che danno la morte ma se presso a lui v'è un angelo un interprete uno solo fra i mille che mostri all'uomo il suo dovere e Dio ha pietà di lui e dice risparmialo che non scenda nella fossa ho trovato il suo riscatto allora la sua carne diventa fresca più di quella di un bimbo gli torna ai giorni della sua giovinezza implora e Dio e Dio gli è propizio gli dà di contemplare il suo volto con giubilo e lo considera di nuovo come giusto ed egli va cantando fra la gente e dice avevo peccato pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo il Dio ha riscattato l'anima mia onde non discendesse nella fossa e la mia vita si schiude alla luce ecco tutto questo il Dio lo fa due tre volte all'uomo per ritrarre l'anima di lui dalla fossa perché su di lei splenda la luce della vita sta attento Giobbe dammi ascolto taci ed io parlerò se hai qualche cosa da dire rispondi mi parla che io vorrei poter dar ragione se no tu dammi ascolto taci e io ti insegnerò la saviezza Giobbe capitolo trentaquattresimo Eliù riprese a parlare e disse o voi savi ascoltate le mie parole voi che siete intelligenti prestatemi orecchio poiché l'orecchio giudica dei discorsi come il palato assapora le vivande scegliamo quel che è giusto riconosciamo fra noi quello che è buono Giobbe ha detto son giusto ma Dio mi nega giustizia ho ragione e passo da bugiardo la mia ferita è incurabile e sono senza peccato dov'è l'uomo che al pal di Giobbe tracanni gli empi scherni come l'acqua cammini in compagnia di malfattori e vada assieme con gli scelerati poiché ha detto non giovanulla l'uomo l'avere il suo diletto in Dio o ascoltatemi dunque o uomini di senno lungi da Dio il male lungi dall'onipotente l'inequità poiché egli rende all'uomo secondo le sue opere e fa trovare ognuno il salario della sua condotta no di certo il Dio non commette ingiustizie l'onipotente non perverte il diritto chi gli ha dato il governo della terra chi ha affidato l'universo alla sua cura se non ponesse mente che a se stesso se ritrasse a sé il suo spirito e il suo soffio ogni carne perirebbe d'un tratto e l'uomo ritornerebbe in polvere se tu sei intelligente ascolta questo porgi l'orecchio alla voce delle mie parole uno che odiasse la giustizia potrebbe governare e osi tu condannare il giusto il potente che chiama i re uomini da nulla e i principi scelerati che non porta rispetto all'apparenza dei grandi che non considera il ricco più del povero poiché sono tutti opera delle sue mani in un attimo essi muoiono nel cuore della notte la gente del popolo è scossa e scompare i potenti sono portati via senza manduomo poiché il Dio tiene gli occhi aperti sulle vie dei mortali e vede tutti i loro passi non vi son tenebre non ve ombra di morte ove possa nascondersi chi opera iniquamente Dio non ha bisogno d'osservare a lungo un uomo per farlo davanti a lui in giudizio egli fiacca i potenti senza richiesta e ne stabilisce altri al loro posto poiché egli conosce le loro azioni li abbatte nella notte e sono fiaccati li colpisce come dei malvagi in presenza di tutti poiché si sono sviati da lui e non hanno posto mente ad alcuna delle sue vie han fatto salire a lui il gemito del povero ed egli ha detto ha dato ascolto al gemito degli infelici quando il Dio dà requie chi lo condannerà chi potrà contemplarlo quando nasconde il suo volto a una nazione ovvero a un individuo per impedire all'empio di regnare per allontanare dal popolo le insidie quel lempio ha egli detto a Dio io porto la mia pena non farò più del male mostrami tu quel che non so vedere se ho agito perversamente non lo farò più dovrà forse il Dio rendere la giustizia a modo tuo tu che lo critichi ti dirà forse scegli tu non io quello che sai dillo la gente assennata e ogni savio che m'ascolta mi diranno Giobbe parla senza giudizio le sue parole sono senza intendimento ebbene sia Giobbe provato sino alla fine poiché le sue risposte sono quelle degli iniqui poiché aggiunge al peccato suo la ribellione batte le mani in mezzo a noi e moltiplica le sue parole contro a Dio Giobbe capitolo trentacinquesimo poi Eliù riprese il discorso e disse credi tu d'aver ragione quando dici Dio non si cura della mia giustizia infatti hai detto che mi giova che guadagno io di più a non peccare io ti darò la risposta a te e dagli amici tuoi considera i cieli e vedi guarda le nuvole come sono più in alto di te se pecchi che torto li fai se moltiplichi i tuoi misfatti che danno gli rechi se sei giusto che gli dai che riceve egli dalla tua mano la tua malvagità non nuoce che al tuo simile e la tua giustizia non giova che ai figli degli uomini si grida per molte oppressioni si levano lamenti per la violenza dei grandi ma nessuno dice dove è Dio il mio creatore che nella notte concede canti di gioia che ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più savi degli uccelli del cielo si grida sì ma egli non risponde a motivo della superbia dei malvaci certo Dio non dà ascolto ai lamenti vani l'onipotente non ne fa nessun caso e tu quando dici che non lo scorgi la causa tua li sta d'innanzi sappialo aspettare ma ora perché la sua ira non punisce perché egli non prende rigorosa conoscenza delle trasgressioni Giobbe apre vanamente le labbra e accumula parole senza conoscimento Giobbe capitolo trentaseesimo poi Eliù seguitando disse aspetta un po' io ti istruirò perché c'è da dire ancora un po' a pro di Dio io trarrò la mia scienza da lontano e renderò giustizia a colui che m'ha fatto per certo le mie parole non sono bugiarde ti sta d'innanzi un uomo dotato di perfetta scienza ecco e Dio è potente ma non disdegna nessuno è potente per la forza dell'intelletto suo e non lascia vivere l'empio e fa ragione ai miseri non storna lo sguardo suo dai giusti ma li pone coi re sul trono ve li fa sedere per sempre e così li esalta se gli uomini sono talora stretti da catene se sono presi dai legami dell'afflizione Dio fa loro conoscere la loro condotta le loro trasgressioni già che essi sono insuperbiti egli apre così i loro orecchi ai suoi ammonimenti e li esorte ad abbandonare il male se l'ascoltano se si sottomettono finiscono i loro giorni nel benessere e gli anni loro nella gioia ma se non l'ascoltano periscano trafitti dai suoi dardi muoiono per mancanza di intendimento gli empi di cuore si abbandonano alla collera non implorano il Dio quando egli incatena così muoiono nel fior degli anni e la loro vita finisce come quella dei risoluti ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione e gli apre gli orecchi mediante la sventura che pure vuoi trarre dalle fauci della distretta a largo dove non è più angustia e coprir la tua mensa tranquilla di cibi succulenti ma se giudichi le vie di Dio come fan gli empi il giudizio e la sentenza di Lui ti piomberanno addosso bada che la collera non ti trasporti alla bestemmia e la grandezza del riscatto non ti induca a fuorviare farebbe egli caso delle tue ricchezze non ha valore per Lui né l'oro né tutta la possanza dell'opulenza non anelare a quella notte che porta via i popoli dal luogo loro guardati bene dal vorgerti all'iniquità tu che sembri preferire questa all'afflizione vedi il Dio è eccelso nella sua potenza chi può insegnare come Lui chi egli prescrive la via da seguire chi osa dirgli tu hai fatto male pensa piuttosto a magnificare le sue opere gli uomini lo celebrano nei loro canti tutti lo ammirano il mortale le contempla da lungi sì il Dio è grande e noi non lo possiamo conoscere incalcolabile il numero degli anni suoi egli trae a sé le gocciole dell'acqua dai vapori che gli ha formato stilla la pioggia le nubi la spandano la rovesciano sulla folla dei mortali e chi può capire lo spiegamento delle nubi i fragori che scoppiano nel suo padiglione ecco ora egli spiega intorno a sé la sua luce e prende per coperta le profondità del mare per tal modo punisce i popoli e da loro del cibo in abbondanza sempie di fulmini le mani e li lancia contro gli avversari il rombo del tuono annunzia che i viene e gli animali lo presento un vicino giobbe capitolo trentasettesimo a tale spettacolo il cuore mi trema e basa fuor dal suo luogo udite udite il fragore della sua voce il rombo che esce dalla sua bocca egli lo lancia sotto tutti i cieli e il suo lampo guizza fino ai lembi della terra dopo il lampo una voce arrugge egli tuona con la sua voce maestosa e quando so della voce il fulmine non è già più nella sua mano e Dio tuona con la sua voce meravigliosamente grandi cose egli fa che noi non intendiamo dice alla neve cadi sulla terra lo dice al membo della pioggia al membo della pioggia torrenziali rende inerte ogni mano d'uomo onde tutti i mortali che sono opera la sua imparino a conoscerlo le bestie selvagge vanno nel covo e sta ritirate dentro le tane dai recessi del su viene l'uragano dagli aquilori il freddo al soffio di Dio si forma il ghiaccio si contrae la distesa delle acque e gli carica pure le nubi d'umidità disperde lontano le nuvole che portano i selampi ed esse da lui guidate vanno vagando nei giri per seguir quando è loro comanda sopra la faccia di tutta la terra le manda e come un flagello o come un beneficio alla sua terra come prova della sua bontà porgi l'orecchio a questo o Giobbe fermati e considera le meraviglie di Dio sai tu come Dio le diriga e faccia guizzare il lampo dalle sue nubi conosci tu l'equilibrio delle nuvole le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta sai tu come mai gli abiti suoi sono caldi quando la terra si assopisce sotto il soffio dello scirocco puoi tu come lui distendere i cieli e farli solidi come uno specchio di metallo insegnaci tu che dirgli nelle tenebre nostre noi non abbiamo parole gli si annunzierà forse che io voglio parlare ma chi mai può bramare d'essere inghiottito nessuno può fissare il sole che sfolgoreggia nei cieli quando è passato il vento a renderli tersi dal settentrione viene l'oro ma Dio è circondato da una maestà terribile l'onipotente noi non lo possiamo scoprire egli è grande in forza e in equità in perfetta giustizia egli non opprime alcuno perciò gli uomini lo temono e non degna ad uno sguardo chi si presume savio Giobbe capitolo trentottesimo allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno or su cingiti i lombi come un prode e io ti farò delle domande e tu insegnami dove eri tu quando io fondavo la terra dillo se hai tanta intelligenza chi ne fissò le dimensioni già che tu il sai o chi tirò sovressa la corda da misurare su che furono appoggiate le sue fondamenta o chi ne pose la pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo chi chiuse con porte il mare balzante fuori dal seno materno quando gli detti le nubi per vestimento e per fasce l'oscurità quando gli tracciai dei confini e gli misi sbarre e porte e dissi fin qui tu verrai e non oltre qui si fermerà l'orgoglio dei tuoi flutti hai tu mai in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora perché ella afferri i lembi della terra e se ne scuota via i malvagi la terra si trasfigura come creta sotto il sigillo e appare come vestita di un ricco manto i malfattori sono privati della luce loro e il braccio alzato già è spezzato sei tu penetrato fino alle sorgenti del mare hai tu passeggiato in fondo all'abisso le porte della morte ti sono state scoperte hai tu veduto le porte dell'ombra di morte hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra parla se la conosci tutta dov'è la via che guida al soggiorno della luce e la tenebra dov'è la sua dimora le puoi tu menare verso i loro domini e sai tu bene i sentieri per ricondurle a casa lo sai di sicuro che tu eri allora già nato e il numero dei tuoi giorni è grande sei tu entrato nei depositi della neve li hai visti i depositi della grandine li hai visti i depositi che io tengo in serbo per i tempi della distretta per il giorno della battaglia della guerra per quali vie si diffonde la luce e si sparge il vento orientale sulla terra chi ha aperto i canali dell'acquazzone e segnato la via al lampo dei tuoni perché la pioggia cada sulla terra inabitata sul deserto dove non sta alcun uomo e di seti le solitudini desolate sì che vi germogli e cresca l'erba ha forse la pioggia un padre o chi genera le gocce della rugiada dal seno di chi esce il ghiaccio e la brina del cielo chi la dà la luce le acque divenute come pietra si nascondono e la superficie dell'abisso si congela sei tu che stringi legami delle pleiadi o potresti tu sciogliere le catene d'orione sei tu che al suo tempo fai apparire le costellazioni e guidi la grandorsa assieme ai suoi piccini conosci tu le leggi del cielo e regoli tu il dominio di esso sulla terra puoi tu levare la voce fino alle nubi e far che l'abbondanza di pioggia ti ricopra e i fulmini parton forse al tuo comando ti dicono essi eccoci qua chi ha messo negli strati delle nubi sapienza o chi ha dato intelletto alla meteora chi conta con sapienza le nubi e gli otri del cielo chi li versa allorché la polvere stemperata diventa come una massa infusione e le zolle dei campi si saldan fra loro sei tu che cacci la preda per la leonessa che sazi la fame delle uncelli quando si appiattano nelle tane e si mettono in agguato nella macchia chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno errando senza cibo giobbe capitolo trentanovesimo sei tu quando le capre selvagge delle rocce figliano hai tu osservato quando le cerve partoriscano conti tu i mesi della loro pregnanza e sei tu il momento in cui debbano sgravarsi s'accosciano fanno i loro piccini e son tosto liberate dalle loro doglie e i loro piccini si fanno forti crescono all'aperto e se ne vanno e non tornano più alle madri chi manda libero l'onagro e chi scioglie i legami dell'asino selvatico al quale ho dato per dimore il deserto e la terra salata per abitazione egli si beffa del frastuono della città e non ode grida di padrone batte le montagne della sua pastura e va in traccia ad ogni filo di verde il bufalo vorrà egli servirti o passare la notte presso la tua mangiatoia legherai tu il bufalo con una corda perché faccia il solco erpicherà egli le valli dietro a te ti fiderai di lui perché la sua forza è grande lascerai a lui il tuo lavoro conterai su di lui perché ti porti a casa la raccolta e ti ammonti il grano nell'aia lo struzzo batte allegramente le ali ma le penne e le piume di lui sono esse pietose no poiché egli abbandona sulla terra le proprie uova e le lascia scaldare sopra la sabbia egli dimentica che un piede le potrà schiacciare e che le bestie dei campi le potranno calpestare tratta duramente i suoi piccini quasi non fossero i suoi la sua fatica sarà vana ma ciò non lo turba che il dio ha privato di sapienza ed egli ha impartito l'intelligenza ma quando si leva e piglia lo slancio si beffa del cavallo e chi lo cavalca sei tu che dai al cavallo il coraggio che gli vesti il collo d'una fremente criniera sei tu che lo fai saltare come la locusta il fiero suonitrito incuse spavento raspa la terra nella valle ed esulta dalla sua forza si slancia incontro alle armi dalla paura si ride non trema non indietreggia davanti alla spada gli risuona addosso il turcasso la folgorente lancia il dardo con frequente furia divora la terra non sta più fermo quando suona la tromba comode lo squillo dice ah e fiuta da lontano la battaglia la voce tonante dei capi e il grido di guerra è intelligenza tua che allo sparviere fa spiccare volo e spiegar le ali verso mezzogiorno è forse al tuo comando che l'aquila si leva in alto e fa il suo nido nei luoghi elevati abita nelle rocce e vipernotta sia sulla punta delle rupi sulle vette scoscese di là spia la preda e i suoi occhi mirano lontano i suoi piccini si abbeverano di sangue e dove sono dei corpi morti ivi e là si trova Giobbe capitolo quarantesimo l'eterno continuò a rispondere a Giobbe e disse il censore dell'onipotente vuole ancora contendere con lui colui che censura il dio ha egli una risposta a tutto questo allora Giobbe rispose all'eterno e disse ecco io son troppo meschino che ti risponderei io mi metto la mano sulla bocca ho parlato una volta ma non riprenderò la parola due volte ma non lo farò più e l'eterno allora rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse orsù cingiti lombi come un prode ti farò delle domande e tu insegnami vuoi tu proprio annullare il mio giudizio condannar me per giustificare te stesso hai tu un braccio pari a quello di dio o una voce che tuoni come la sua su via adornati di maestà e di grandezza rivestiti di splendore e di magnificenza da libero corso ai furoi dell'ira tua mira tutti superbi e abbassali mira tutti superbi e umiliali e schiaccia gli empi dovunque stanno seppelliscili tutti assieme nella polvere copri di ben della loro faccia nel buio della tomba allora anch'io ti lo derò perché la tua destra ti avrà dato vittoria guarda l'ippopotano che ho fatto al par di te esso mangia l'erba come il bove ecco la sua forza nei suoi lombi e il vigor suo nei muscoli del ventre stende rigida come un cedro la coda e i nervi delle sue cosce sono intrecciati insieme le sue ossa sono tubi di rame e le sue membra sbarre di ferro esso è il capolavoro di dio colui che lo fece l'ha fornito di falce perché i monti li producono la pastura e là tutte le bestie dei campi li scherzano intorno si giace sotto i loti nel folto dei canneti in mezzo alle paludi i loti lo coprono nell'ombra loro i sacci del torrente lo circondano straripi pure il fiume e non trema rimane calmo anche se avesse un giordano alla gola potrebbe alcuno impadronirsene assalendolo di fronte o prenderlo con le reti perforargli il naso prenderai tu il coccodrillo all'amo gli assicurerai la lingua con la corda gli passerai un giunco per le narici gli forerai le mascelle con un uncino ti rivolgerà egli molte supplicazioni ti dirà egli delle parole dolci farà egli teco un patto perché tu lo prenda per sempre al suo servizio scherzerai tu con lui come fosse un uccello l'attaccherai un filo per divertirle le tue ragazze ne trafficheranno forse i pescatori lo spartiranno essi fra i negozianti gli coprirai tu la pelle di dardi e la testa di ramponi mettili un po' le mani addosso ti ricorderai del combattimento e non ci tornerai Giobbe capitolo quarantunesimo ecco fallace la speranza di chi la sale basta scorgerlo e sei atterrati nessuno è tanto ardito da provocarlo e chi dunque oserà starmi a fronte chi m'ha anticipato alcunché poich'io glielo debba rendere sotto tutti i cieli ogni cosa è mia e non vuotacere delle sue membra della sua gran forza della bellezza della sua armatura chi l'ha mai spogliato della sua corazza chi è penetrato fra la doppia fila dei suoi denti chi gli ha aperti i due battenti della gola intorno alla chiostra dei suoi denti sta il terrore superbe sono le file dei suoi scudi strettamente uniti come da un sigillo uno tocca l'altro e tra loro non passa l'aria sono saldati assieme si tengono stretti sono inseparabili i suoi starnuti come sprazzi di luce i suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora dalla sua bocca partano vampe ne scappano fuori scintille di fuoco dalle sue narici esce un fumo come da una pignatta che bolla o da una caldaia l'alito suo accende i carboni e una fiamma gli rompe dalla gola nel suo collo risiede la forza dinanzi a lui salta il terrore compatte sono in lui le parti flosce della carne gli stanno salde addosso non si muovono il suo cuore duro come il sasso duro come la macina di sotto quando si drizza tremano i più forti e dalla paura sono fuori di sé invano lo si attacca con la spada annulla valgo un lancio è giavellotto e corazza il ferro è per lui come paglia il rame è come legno tarlato la figlia dell'arco non lo mette in fuga le pietre della fionda si mutano per lui in stoppia stoppia gli parla mazza e si ride del fremar della lancia il suo ventre è armato di punti acute e lascia come tracce dell'erpice sul fango fa bollire l'abisso con una caldaia del mare fa come un gran vaso da profumi si lascia dietro una scia di luce l'abisso par coperto di bianca chioma non v'è sulla terra chi lo doni è stato fatto per non aver paura guarda in faccia tutto sciò che Celso è re su tutte le belve più superbe Giobbe capitolo quarantaduesimo allora Giobbe rispose all'eterno e disse io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno chi è colui che senza intendimento fusca il tuo disegno sì ne ho parlato ma non lo capivo sono cose per me troppo meravigliose ed io non le conosco dè ascoltami io parlerò io ti farò delle domande e tu insegnami il mio orecchio avrà sentito parlare di te ma ora l'occhio mio t'ha veduto perciò mi ritratto mi pento sulla polvere e sulla cenere e dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Giobbe l'eterno disse a Eliphaz di Temam l'ira mia è accesa contro di te e contro i tuoi due amici perché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo Giobbe or dunque prendetevi sette tori e sette montoni e venite a trovare il mio servo Giobbe e offriteli in olocausto per voi stessi il mio servo Giobbe pregherà per voi ed io avrò riguardo a lui per non punir la vostra follia poiché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo Giobbe Eliphaz di Temam Bildà di Suac e Zophar di Nama se ne andarono e fecero come l'Eterno aveva loro ordinato e l'Eterno ebbe riguardo a Giobbe e quando Giobbe ebbe pregato per i Suoi amici l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto tutti i Suoi fratelli tutte le Sue sorelle tutte le Sue conoscenze di prima vennero a trovarlo mangiarono con Lui in casa Sua gli fecero le loro condoglianze lo consolarono di tutti i mali che l'Eterno gli aveva fatto cadere addosso e ognuno d'essi gli dette un pezzo d'argento e un anello d'oro e l'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi ed ei sebbe quattordici mila pecore e sei mila cammelli mille paia di bovi e mille asine e sebbe pur sette figliuoli e tre figliuole e chiamò la prima Colomba la seconda Cassia la terza Cornustubia e in tutto il paese non c'erano donne così belle come le figliuole di Giobbe e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli Giobbe dopo questo visse centoquarant'anni e vide i suoi figliuoli e i figliuoli dei suoi figliuoli fino alla quarta generazione poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni